ragazzi non ci vogliono fare parlare pazienza loro non parlano non ci vogliono fare parlare ma continueremo mi dispiace non poter continuare perché io sono prepotente di cui ho chiesto di parlare loro non hanno parlato pensavo che sia questa è solo una parte di quello che continuerò a raccontarti domani voi il 28 e il 29 maggio sarete chiamati a fare una scelta cruciale per il futuro di questo paese maldestramento Giuseppe Pitoto tra le tante cose che ha detto ha detto che loro non chinano la testa loro non piegano la testa se qua c'è qualcuno che non piega la testa siamo noi e noi la testa non la pieghiamo mai quando si tratta di tutelare l'interesse di Piedimonte il 28 e il 29 maggio votate per Piedimonte votate Ignazio Cuglisi sindaco per non tornare indietro viva il 29 maggio votate per un fuori di Gud Hardi lì c'è l'anima